Voi chiedete, ed io vi ascolto e mantengo le promesse, avevo risposto a questo commento in cui andavo a dire che effettivamente avrei anche ampliato questa rubrica sulle migliori aziende sottovalutate anche per il mercato italiano e anche questo mese, oltre a quelle del mercato americano, vi vado a proporre tre aziende sottovalutate in Italia. Sicuramente non sono molto conosciute, ma potrebbero essere molto conosciute dopo questo video, per cui non andate via. Sicuramente questa rubrica andrà avanti, se le visualizzazioni me lo permetteranno e visto che quello sulle aziende americane vanno più o meno bene, ho detto, ma perché non provare anche con quelle italiane? Come ho detto all'inizio, saranno delle aziende un po' meno conosciute del resto, anche perché io qui, che non vi faccio vedere, ce l'ho una lista con altre sette aziende, ma non ve le dico tutte insieme ragazzi, tre sono più che sufficienti perché dopo si va troppo a diluire e vanno approfondite bene. Oggi li vediamo in maniera sommaria, perché sarebbe sommaria, sarebbe la moglie di Mario, se no direbbe sommario, che battuta del cazzo. E in ogni caso andiamo a vedere adesso queste aziende che sono in tre settori molto, ma molto noiosi, però a quanto pare potrebbe valerne la pena. La prima azienda che è quella un po' meno sottovalutata, forse la conoscete tutti, si tratta di A2A e non si può sbagliare con A2A, per chi non la conoscesse andiamo a vedere dal company profile cosa fanno, va produzione, vendita e distribuzione di gas e di elettricità sia dal punto di vista italiano che internazionale, per cui l'azienda produce appunto energia, che si è questa elettrica o tramite gas. Azienda che attualmente ha un pie ratio dei 7.4, un ritorno on asset del 5%, un ritorno on equity del 19.2% e un profitto lordo del 20.5%. Ha un income netto di 868 milioni di euro, un fatturato di 12.66 miliardi e una market cap di 6.42 miliardi di euro. Cosa interessante per noi investitori da dividendi, ha un dividendo del 4,71%. È un'azienda che è molto ciclica, essendo nel campo degli utilities, ma in questo momento particolare, dopo dei massimi storici raggiunti negli anni 2000, sembra un trend storico, partendo più o meno dal 2012, di continua crescita, con ovviamente delle botte di vita nel 2019 e poi anche nel 2021, però questa crescita sembra aver ripreso lentamente, dal 2012 a oggi, in questi ultimi 12 anni, un ottimo trend. Come possiamo vedere, a parte un 2022 che è fuori dalla norma per tutte le vicende che sappiamo, fra la Russia e l'Ucraina, comunque l'azienda ha una tendenza del proprio fatturato, del proprio income statement, in aumento. Gross margin del 20.47%, margine operativo del 10%, net profit margin 6.85% e il ritorno sugli investimenti di 8.18%. Come possiamo vedere anche il fatturato dal 2020, a parte come diciamo prima il 2022, è tendente alla crescita, un quick ratio del 0.86% e un current ratio di 1.22%. Asset molto interessantemente in crescita, come sempre anche a parte questo fatidico 2022, e possiamo vedere anche da questa schermata, come dicevamo prima, total revenue in aumento, operation income anche questo in aumento. Andiamo a vedere il balance sheet, quelli che sono gli asset che, come dicevamo prima, anche questi sono costantemente in aumento, a parte questa nostra giornata, se posso dire, una finestrina del 2022, mentre per quanto riguarda anche le liabilities, la parte debitoria, anche questa è in crescita e come possiamo vedere la forchetta che va fra i total asset e le total liabilities è in favore appunto degli asset. Schermata del cash flow, cash flow che è risultato negativo nel 2023, vediamo cosa succederà nel 2024, comunque è un'azienda utilities per cui ci sta che ogni tanto investano soldi nelle infrastrutture per poter appunto aumentare il fatturato e crescita. Andiamo a vedere i nostri amatissimi dividendi e come possiamo vedere il dividendo viene distribuita in forma annuale ogni maggio. Attualmente il dividendo a maggio 2024 è stato al 4,75% ma con dei rintracciamenti possiamo trovare anche delle opportunità migliori. Azienda che reputo solida e che penso nel lungo periodo possa dare grosse soddisfazioni e che al momento presumo sia leggermente sottovalutata. Passiamo alla seconda. Anche in questo caso abbiamo una seconda azienda che forse qualcuno di voi conosce un po' meno, parliamo di Buzzi Unicem o Unicem detto all'italiana e se guardiamo il nome già capiamo cosa produce questa azienda. Si tratta di un'azienda produttrice e distributrice di cementi o comunque delle tipologie di prodotti che sono per il settore edilizio. Quindi quando si ferma l'edilizia, quando si ferma diciamo così le case, le costruzioni, questa azienda subisce dei rallentamenti. Quindi è un'azienda che può essere ciclica dove opera principalmente in Italia ma anche i Stati Uniti d'America, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ocrina, Messico e Brasile. Quindi è anche diversificata dal punto di vista geografico a livello mondiale. Abbiamo un'azienda che ha una market cap di 6,21 miliardi di euro, un fatturato di 4,22 miliardi e un net income di 957 milioni. Abbiamo un PA di 6,68, un ritorno in asset di 12,4%, un ritorno in equity del 17,2% e un margine di profitto lordo 44,4%. Io non ci sputerei sopra. Anche qui come possiamo vedere è un'azienda che cresce costantemente dagli anni 90, anzi dagli anni 80 quando è stata quotata. In questo momento si trova in un piccolo intracciamento. Principalmente possiamo vedere che è ritornata più o meno ai livelli di inizio 2024 per cui ci potrebbero essere opportunità di ingresso. Dal punto di vista finanziario come possiamo vedere abbiamo il gross margin, l'operating margin e il net profit margin che sono a doppia cifra e anche il ritorno sugli investimenti. Profitto lordo 44,37%, margine operativo 22,6%, margine di profitto netto 22,66%, ritorno sugli investimenti 12,29% con il proprio fatturato in aumento così come tutte le altre metriche ma che andiamo a vedere anche in maniera più dettagliata qui su investing.com. Vediamo che qui dal 2020 il fatturato in aumento così come l'operating income e se andiamo a vedere invece quello che è il balance sheet dell'azienda possiamo vedere anche in termini annuali come gli asset totali sono in crescita lenta ma costante così come le liabilities che sono come possiamo vedere con una forchetta che è più o meno 5 volte minore rispetto a quella, 4-5 volte minore rispetto agli asset totali quindi è un'azienda fortemente in salute. Considerato che è un business che può essere molto capital intensive perché per produrre appunto cementi bisogna scavare, bisogna comprare insomma poi bisogna approfondire anche dal punto di vista operativo come l'azienda va a produrre le proprie materie prime e i propri prodotti. Andiamo a vedere l'ultima schermata, quella del cash flow che possiamo vedere è sempre positivo, è in crescita a parte una battuta d'arresto nel 2022 comunque è sempre stato positivo. Andiamo a vedere la pagina dei dividendi, vediamo che al momento distribuisce anche lei una volta all'anno a maggio e al momento il dividendo è stato dell'1,50% nel 2024 però ha avuto punte ad esempio nel 2021 dove c'è stata una doppia distribuzione che è stato leggermente più alto per cui un occhio a questa azienda secondo me vale la pena darne anche se si trova in un business piuttosto noioso, azienda anche in questo caso che reputo molto ma molto stabile in un contesto che può essere ciclico ma allo stesso tempo che può essere sicuro sotto alcuni punti di vista perché comunque il mercato edilizio per quanto possa essere ciclico difficilmente andrà a sparire. Passiamo all'ultima azienda questa la conoscete perché ve l'ho presentato nel video precedente parliamo di Orsero, azienda che si occupa di distribuzione e importazione di frutta e verdura dai paesi dell'america latina e dell'america centrale ma anche dell'europa distribuendola poi anche in questi paesi facendo appunto questo scambio. Principalmente si occupa di distribuire avocado, legumi, mele, meloni, pere e frutti esotici e anche verdure. Azienda con un P.E. di 5,55, un ritorno sugli asset del 6%, un ritorno sull'equity di 17,3%, un margine di profitto lordo del 10,6, market cap piccolissima 213 milioni e mezzo di euro, fatturato che però è 1,53 miliardi. Ragazzi sarà sei volte quello che è la market cap dell'azienda è un net income di 39,43 milioni di euro. Andiamo a vedere alcune metriche. Come possiamo vedere profitto che è molto piccolo con fatturati che sono in grosso aumento però ci sta che su frutta e verdura non ci si guadagni un granché e si guadagni sui volumi. Margine lordo 10,62%, margine operativo 3,61%, profitto di margine netto 2,58%, ritorno sugli investimenti 10,04%, fatturato in aumento, profitto lordo in aumento, operation income anche questo in aumento. Magari andiamo a vedere più nel dettaglio questi dati. Come possiamo vedere fatturato dal 2020 al 2023 che ha avuto una grossa salita verso l'alto così anche come per l'operation income che soprattutto dal 2021 in poi comincia diciamo quasi a raddoppiare e poi diciamo di nuovo un altro 50% in più circa nel 2023. Balance sheet. Abbiamo asset anche questi in continua crescita e anche l'erarabilities in questo caso però possiamo vedere che la forchetta rispetto agli asset comunque è tendente verso quello di asset e per cui l'azienda di per sé la possiamo reputare molto sana. Andiamo a vedere il cash flow. Possiamo vedere che il free cash flow cresce nel tempo anche in questo caso dove era negativo addirittura nel 2020. Adesso comunque possiamo vedere che è raddoppiato rispetto al 2021, 22 barra 22. Andiamo a vedere l'ultima parte quella del dividendo. Azienda anche che in questo caso paga a maggio e nel 2024 ha distribuito un 4.28% perché c'è stato appunto un calo del valore delle azioni e c'è stato anche un aumento del dividendo da 0,35 a 0,06 centesimi di euro per azione. Se andate a guardare il video sulle migliori aziende italiane che ho fatto qualche tempo fa, magari ve lo lascio qui da qualche parte, potete vedere qual è stato anche il dividend growth negli ultimi cinque anni. Azienda che appunto la prima, quella più sottovalutata a mio paere, è proprio Orsero, è quella che mi piace anche di più. Fatemi sapere se avete altre aziende che sono sottovalutate secondo voi, quali potrebbero essere? Scrivetemi nei commenti qui sotto e fatemi sapere anche se questa versione appunto della rubrica che si sposta dalle aziende americane a quelle italiane possa trovare il vostro interesse su cadenza mensile. Come sempre ricordatevi che vi voglio bene e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto, ciao!